musica musica Siamo in quattro per giocare a GTA Siamo in quattro per te si possono fare il gol Già, no, non lo scherzo Che sta male, Osiris, amici Fai giro Osiris, è un po' stagione Ciao 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 Oh, che è Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Lei non l'ho fatta All'interno, all'interno All'interno An rough, c'è ma 2 è un po' per me Napo 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 è un po' per me cosa è la mia tua è un po' per me Napo non è un po' per me non è un po' per me Mannaggia Ma come cazzo si fa? Ma per me Dio, non fuori un'app un po' un pazze più è un po' questo Amore 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 L'unico pagherà la mappa è giudicare Amore Amore Non è un po' per me Allora, non è un po' per me Tornare E ora è me mani per la ora che non la ricordiamo adesso. Sì, è un po' di nuovo. Sì. Paglio spettando Sì, che cosa succede? Sì, che cosa succede? Hai nabbo! Fammi innamorare, tu bevi! Si vede qualcosa al giuro, nabbo! No, come nabbo non ti fa così! Sì, che cosa succede? E' una, pure il dritte, pure il dritte è saluto! Sono grossi c'è, la viola c'è! Nabbo aspetta un po' qui! E' 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 un po' qui! Il commissario, il masciallo batte il commissario! 3.000 dollari! Che cazzo ci pagi! E' un po' qui! Grazie a tutti. 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 No. No. Grazie a tutti. No. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. No. e si è scaricato il giochi e si è scaricato il giochi aspetta fanno finire quattro diamiamo pure questa o qui guarda che è il fare i potori è tipo qua tipo qua 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 mamma mia è bello però con due uno male eh uno male ehh qualcuno è proprio male no è bello qua era difficile uno male e non lo faccio così questo è lonti che sono più ma come hai salvato questo ma come hai salvato? ma come hai salvato? Sì, ho buttato le sensi di shock, porca! Non me la vedo! Sì, non me la vedo! Sì, non me la vedo! Ma chi si è fermato con me? Cosa ammazza? Ma chi si è fermato? Tu! Ma guardate qui! Vai ragazzi! Che c***o! Oh no, ma lì c'è una risata! Auguri ragazzi! Ehi, come si può? Lì c'è una risata! Ecco! Io la faccio qua! Ecco, bravo! Come si va a saltare con la B? R1 Sì, ma devi prioritare, non devi... Lo devi fare l'impernata per dire valo di vado! Eh, niente! Vedo l'1! No! No! Chissà, se dov'è diverso? No, niente! Stai scambiando il gioco! Ma come sono venti e quattro c'è occupato? Mh... 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 Alla fine! Allora, ecco non mi arriva il blight! Un po' di questo tipo! Di fare dei cerchetti con il... L'analogico! Di cerchetti con l'analogico! Mh... Diいつi... Di devo fare dei cerchetti con l'analogico! Senta con l'analogico, mi sento, no? Pago tu pure tu sei così Il Commissario Don Matteo Senta con l'allogico D'ordine cosa ci sisai? Pago guarda, guarda Pago io devo aspettare No, no Pago ti dico, metti la schiena a 10 e vai con la schiena verso tu Marta, no Vai Pago Pago, metti la schiena Versi la schiena E poi arista E poi si utilizzo a la schiena Il commissario è un pazzito. Non è più nudo, però... Per arrivare almeno uno. Per arrivare almeno uno. A presto!